Vi ringraziamo molto per essere venuti qui. Noi film non si fa mai insieme. Le scenografie che avete visto sono state realizzate da Adamo Stone. Grazie, grazie a tutti per essere venuti qui. E soprattutto ringrazio Roberto per aver mostrato senza subito di due giorni nei confronti. Questa è la mia prima collaborazione con Roberto. Spero ce ne siano due altre, perciò ho detto la prima. La prima di altre 100. Grazie. Allora lui è di Capaccio, è un cilentano, è venuto con me per la prima volta sul set. C'è un'altra cilentana qui in sala che si è occupata del color gradient delle Alfonsina Filippi. Grazie a tutti, grazie. Speriamo che questo film vi sia piaciuto. Vi ringraziamo moltissimo per essere stati qui con noi e se volete al nostro prossimo film. Grazie molto a tutti. Grazie. La famatura è appena. Speriamo che tutti. Vi ringraziamoما per essere stati qui procurer Ciao Buonasera a tutti Buonasera Mi è piaciuta la collaborazione Ha fatto un film Penso che non è la possibilità Non è la possibilità Bravi, bravi Ma non ci hai a che fare Loro hanno a che fare Grazie Mi manda a fare la posta Perché mi ha spostumato Perché c'è il zuppatire Molto bravo Puoi migliorare un po' E' una possibilità brava Grazie 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 Grazie. Ciao. Un triunfo. Questo è un buon ragazzo che merita. Questo è un vogliono che prima o poi lo portano a Hollywood. A chi sto qua ci faccio gli Oscar. Questo non ha capito ancora niente. Buonasera. Prego, prego. Buonasera. 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 Grazie a tutti.